...e proposte di legge, Camera 399 Rossello, Camera 645 Pitalis, Camera 654 Enrico Costa e Camera 716 Pella, recanti, disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite. Vedo già collegato il dottor Vittorio Reili, procuratore regionale della Corte dei Conti della Basilicata che saluto e pregherei il nostro ospite di contenere l'intervento, possibilmente entro dieci minuti per lasciare spazio all'eventuale formulazione di quesiti cui seguirà la replica. Quindi do la parola al dottor Vittorio Reili. Prego. Grazie Presidente, onorevoli deputati, io cercherò veramente di contenere il mio intervento nell'arco di... Chiedo scusa dottor Reili, è possibile aumentare il volume perché la sentiamo ma non bene. E purtroppo... Ecco, ora va meglio, va meglio, va meglio. Va meglio così, allora mi sono appiccinato. Perfetto. Ok, grazie. Grazie di nuovo. Io non voglio ripetere cose che sono state già dette da altri illustri auditi. Ho letto tutti gli interventi che sono stati depositati e voglio dire che mi riservo di depositare nei prossimi giorni il testo dell'intervento che svolgerò innanzi a voi quest'oggi. Il mio intervento seguirà due direttrici. La direttrice relativa alla fattispecie penalistica dell'abuso d'ufficio è quella relativa ai controlli che sono stati evocati come inesistenti dal procuratore nazionale antimafia Melillo e dal procuratore generale della Cassazione. Vi sono due passi dei loro interventi molto interessanti e quindi è come se fosse stata, non dico, chiamata la Corte dei Conti a illustrare la situazione che riguarda poi alla fine gli enti locali. La Corte svolge solo un controllo, possiamo dire, di secondo grado sul sistema dei controlli. Ma vengo quindi alla prima direttrice del mio intervento. Ora, tenuto conto che sembrerebbe dalla lettura dei quotidiani che sia emersa la volontà della maggioranza di governo che fonda l'azione legislativa della abolizione del delitto di abuso d'ufficio, io credo che forse sarebbe di ausilio alla Commissione Giustizia della Camera e al Parlamento dire che se lo scopo, come mi sembra di comprendere, sia quello di evitare la paura della firma, nonché la burocrazia difensiva, ma forse la locuzione paura della firma mette ben in evidenza qual è la finalità che si persegue con l'abolizione di questa figura di reato, ebbene io credo che, come è stato detto, saremmo forse di fronte a una eterogenesi dei fini, perché la giurisprudenza inevitabilmente, si parla di diritto vivente non a caso, cercherà altre scorciatoie che gli vengono offerte dall'ordinamento per potenziare altre figure di reato. Devo dire, si è evocata la figura del peculato per distrazione, che naturalmente voi sapete essere stata espunta dalla formulazione originaria dell'abuso d'ufficio, e il reato di peculato per distrazione è un reato che prevede una pena superiore a quella attuale dell'abuso d'ufficio, che da uno a quattro anni, nel caso di specie, la distrazione penalmente rilevante viene punita da quattro a dieci anni. Ora, il pericolo ovviamente potrà essere sventato da una riforma dell'intero sistema dei reati contro la pubblica amministrazione, e anche questo ho letto sulla stampa, ma poiché non è chiaro bene il percorso che seguirà il legislatore, bisogna ragionare a bocce ferme sulla figura attuale dell'abuso d'ufficio. Indubbiamente il problema è sul tappeto, quello di tutelare gli amministratori pubblici. Io, che sono un magistrato e mi occupo di illeciti che non hanno rilevanza penale, praticamente ho il filo diretto con la procura della Repubblica, della Basilicata, ma immagino tutte le altre procure della Corte dei Conti, perché comunque il problema della paura della firma, della burocrazia difensiva, investe anche l'azione di responsabilità del procuratore regionale, del pubblico ministero contabile, e non è un caso che la riforma dell'abuso d'ufficio del 2020 nel decreto semplificazioni venga varata unitamente al famoso scudo contabile di cui si parla in questi giorni. E quindi la prima direttrice voglio dire semplicemente che se questa è l'intenzione del legislatore va bene l'abrogazione, purché si preveda la punibilità di condotte che prima rientravano nell'abuso d'ufficio, ma tipizzate. E qui vorrei richiamare i lavori della Commissione Morbidelli del 1996, che in effetti spacchettava l'allora abuso d'ufficio, prima della seconda, cioè prima, scusatemi, della terza riforma e del 97, individuando tre distinte condotte tipizzate, attenzione, differenza dell'abuso d'ufficio anche nella nuova versione. Quali erano queste condotte tipizzate? Era una prevaricazione, sarebbe l'abuso di danno, il favoritismo affaristico e lo sfruttamento privato dell'ufficio, sarebbe l'abuso di vantaggio. Per queste tre distinte condotte si prevedevano tre distinte pene a seconda del disvalore che si attribuiva a ciascuna di esse. E quindi, se riforma vi deve essere, meglio, se cancellazione dell'abuso d'ufficio vi deve essere, beh, che siano quantomeno unite queste condotte. Naturalmente, poi, dei lavori di questa Commissione non se ne fece nulla, ma rimangono agli atti parlamentari. E vengo alla seconda direttrice, sarò ancora più breve dell'intervento sulla, io la chiamo sulla prima direttrice. Beh, è stato fatto riferimento ai controlli. Per prevenire certi comportamenti dei pubblici ufficiali è indispensabile avere un sistema dei controlli efficiente. E viene, in questo caso, in campo il ruolo della Corte dei Conti. Purtroppo i dati offerti dalla Corte dei Conti si riferiscono alla relazione, l'ultima, presentata del 2019. Perché i controlli interni della pubblica amministrazione interessano l'opera del legislatore riformista? Perché è chiaro che il rischio di controllo, se è alto, aumenta le probabilità che vi sia il malaffare, come io uso dire, all'interno della pubblica amministrazione. Svolgono una importante funzione preventiva. Ebbene, una cosa sono i controlli che sono stati disegnati da leggi precedenti e che costituiscono il sistema dei controlli, che purtroppo nella realtà non ha dato i risultati che si speravano. Sono controlli interni, quelli della pubblica amministrazione, il più delle volte inefficienti. E quindi sarebbe forse il caso di ricomprendere nella opera riformatrice anche la riforma dei controlli interni nel senso di attribuire più concretezza. E' chiaro che il livello legislativo si può fermare fino ad un certo punto, il resto è affidato ai comportamenti degli uomini, in questo caso ai comportamenti dei pubblici amministratori. Ma forse sarebbe il caso di introdurre un sistema sanzionatorio, non ho ancora ben chiaro quale potrebbe essere, se di tipo penale o di tipo, possiamo dire, amministrativo. Ma sicuramente se si vuole risolvere il problema della paura della firma e non lasciare un quoto di tutela, quello che riguarda il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, occorrerà porre mano e a breve sul sistema dei controlli. Ecco, io spero di non avere abusato, per parafrasare l'abuso d'ufficio, del tempo che mi avete concesso. Spero di essere stato chiaro e ripeto, quello che ho detto, ampliandolo, lo affiderò ad un documento che nei prossimi giorni depositerò. Grazie, Presidente. Grazie a lei, Dottor Raeli. Chiedo se vi sono colleghi. l'onorevole Carla Giuliano. Prego. Grazie, Presidente. Spero che mi sentiate bene perché ho una connessione non troppo stabile. Io saluto e ringrazio il Procuratore Raeli per la sua relazione e spero che poi vorrà mandare a beneficio di tutta la Commissione una relazione riassuntiva del suo intervento. Al Procuratore vorrei chiedere due riflessioni. Innanzitutto, quello che mi sembra di aver compreso dalla sua relazione è la necessità, in una eventuale ipotesi di abrogazione del reato di abuso d'ufficio, di accompagnare questa abrogazione da due interventi. Uno di tipo penalistico, per ricomprendere sotto diverse fattispecie penali alcune tipologie più gravi, tra cui l'abuso di vantaggio e l'abuso di danno, e da un punto di vista contabile e amministrativo, un rafforzamento dei controlli. Quindi volevo, come dire, conferma di aver compreso bene. E poi le vorrei chiedere, Procuratore, se non ritiene che un'abrogazione tu cur senza prevedere null'altro del reato di abuso d'ufficio potrebbe porre l'Italia in contrasto con gli obblighi internazionali e comunitari, in particolare con la Convenzione di Merida sul contrasto alla corruzione e con la nuova proposta di Convenzione elaborata dalla Commissione europea. Grazie. Rispondo con piacere alla domanda che ho... Scusi, scusi, scusi. Perché ha chiesto di intervenire, che è qui presente in Commissione, l'Onorevole Federico Caffiero De Rau. A lei la parola. Prego. Grazie, Presidente. Innanzitutto ringrazio il Procuratore Raeli per la sua relazione e vorrei porre due domande. Primo, esiste un protocollo fra il Procuratore della Corte dei Conti e i Procuratori della Repubblica in relazione alla comunicazione dei procedimenti penali scritti per reati di abuso di ufficio o per gli altri reati contro la pubblica amministrazione? E se non esiste, vi è comunque un accordo in questo senso formalizzato o comunque attuato secondo prassi? Secondo, come ha detto anche la collega Giuliano, la direttiva europea ha posto un ventaglio di reati che costituiscono l'ostatura attraverso la quale i Paesi europei dovranno ostacolare o contrastare la corruzione. Fra questi vi è l'abuso di vantaggio. Ritiene che l'eliminazione e l'abuso d'ufficio finisca per determinare un po' una frattura rispetto all'omologazione d'Italia in relazione alle direttive e all'andamento europeo nel contrasto alla corruzione. Nell'ambito di questa domanda ne risulta che l'Italia sia uno dei Paesi più avanzati sotto il profilo del contrasto alla corruzione tanto di aver anche preseduto l'ultimo incontro del G20 proprio in relazione al contrasto alla corruzione. Grazie. Grazie. A lei dò la parola al nostro ospite per la replica e per rispondere alle questioni poste dai colleghi. Prego, dottor Reilly. Sì, grazie. Rispondo innanzitutto all'onorevole Carla Giuliano. Allora, confermo la prima parte dell'intervento e credo che senz'altro la abrogazione dell'abuso d'ufficio senza essere accompagnato da quell'intervento a cui mi riferivo prima e cioè alla introduzione di figure di reato magari più tipizzate come quelle che aveva individuato la Commissione Morbidelli sia una risposta sia allo scopo che il legislatore si prefigge di evitare la paura appunto della firma che colpisce in maniera indiscriminata tutti gli amministratori onesti e gli amministratori che non lo sono e sicuramente si pone in contrasto ma ripeto, queste cose sono state dette molto meglio di me da illustri relatori e cioè che si pone l'abrogazione del solo reato di abuso d'ufficio si pone in contrasto con gli impegni assunti a livello internazionale non ci dimentichiamo che questi documenti sono rappresentativi degli impegni che il legislatore italiano hanno assunto in sede internazionale sia con la Convenzione di Merida che con l'ultima proposta di direttiva relativa appunto alla introduzione per gli ordinamenti che evidentemente non lo conoscono del reato di abuso d'ufficio quindi la mia valutazione è che se si vuole per essere più chiari escludere l'abuso d'ufficio non si faccia uso una metafora come quando si esclude un farmaco dal prontuario terapeutico per poi riscoprire che magari quel farmaco era utile per curare le patologie relativamente alle quali era stato ammesso una metafora che mi è venuta l'altro giorno vorrei dire ogni opera riformatrice deve fare i conti intanto con la realtà su cui va ad incidere quindi la mia posizione è quella che ho esposto e che l'onorevole Giuliano ha inteso perfettamente per venire alla risposta alle due o tre domande che mi sono state fatte dall'onorevole Federico Caffiero de Rao devo dire per quanto riguarda i protocolli allora sì ci sono dei protocolli di intesa promossi devo dire dalla procura generale della Corte dei Conti che siede a Roma ma appunto a livello periferico vi sono tanti protocolli di intesa per quante sono le procure regionali e le procure della Repubblica in Basilicata come nelle altre regioni d'Italia la procura regionale ha un protocollo di intesa con le varie procure della Repubblica del territorio e per quanto riguarda la mia procura tre anni di vita questo protocollo di intesa non è specifico con riferimento all'abuso d'ufficio ovviamente trattandosi di azione erariale che viene esercitata nei confronti di amministratori e dipendenti pubblici possono venire in considerazione alcuni reati patrimoniali come la truffa aggravata e danni dello Stato di altri enti pubblici ma sicuramente in prima linea possiamo dire proprio in relazione alla natura dell'azione erariale vengono in considerazione i reati dei pubblici amministratori o meglio dei delitti dei pubblici ufficiali e quindi esistono questi protocolli di intesa naturalmente devo dire anche un'altra cosa che i protocolli di intesa diciamo che funzionano allora quando il rapporto tra procuratore regionale e procuratore della Repubblica è un rapporto di collaborazione certe volte accade che al di là delle anzi addirittura sulle richieste di rinvio giudizio delle procure della Repubblica certe volte non vengono trasmesse alla procura regionale ma poco male perché comunque è il procuratore regionale che si attiva e quindi è molto importante i rapporti di collaborazione delle sbavature si possono verificare ma senza assolutamente che questo induca a clamore per quanto riguarda gli impegni appunto assunti a livello internazionale ritengo anche io che la abolizione ex abrupto dell'abuso d'ufficio senza la la introduzione di figure di abuso tipizzate che però siano tipizzate e che quindi corrispondano alla richiesta di prevedibilità anche delle figure di reato credo che sia deleterio per l'Italia e l'Italia è sicuramente dalla mia esperienza sia di giudice venticinquennale che di procuratore regionale da soli tre anni l'Italia è credo all'avanguardia nella lotta alla corruzione come lo è stata per il terrorismo la magistratura ha svolto e certe volte con sacrifici di vite umane una una lotta eh senza quartiere potremmo dire della corruzione e dell'abuso d'ufficio nonostante i dati statistici che vengono utilizzati per sostenerne l'abolizione spero di avere risposto alle domande che mi sono state poste in maniera soddisfacente per chi me le ha appunto sottoposte ringrazio il dottor Vittorio Raeli procuratore regionale della Corte dei Conti della Basilicata per il contributo fornito ai lavori della commissione e dichiaro pertanto conclusa l'audizione grazie dottor Raeli grazie presidente e grazie ai commissari proseguiamo con buongiorno buongiorno allora abbiamo in collegamento vediamo un pochino come allora l'ordine del giorno recaudizioni informali nell'ambito dell'esame in sede del referente delle abbinate proposte di legge camera 399 Rossello camera 645 Pitalis camera 654 Enrico Costa e camera 716 Pella recanti disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite avverto nuovamente che le audizioni formali possono essere trasmesse attraverso la web tv della camera dei deputati con il consenso degli auditi se non vi sono obiezioni ne dispongo l'attivazione abbiamo in collegamento la dottoressa Tiziana Siciliano procuratore aggiunto presso la procura di Milano abbiamo tutti il dottor Bruno Cherchi procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia il dottor Maurizio De Lucia procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo il dottor Marco Gambardella sostituto procuratore presso la procura generale di Bari il dottor Francesco Prete procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia il dottor Francesco Lovoi si collegherà in Tardi mi pare è vero procuratore della Repubblica presso la procura di Roma pregherei i nostri ospiti di contenere possibilmente l'intervento entro dieci minuti per lasciare spazio all'eventuale formulazione di inquisiti in cui seguirà la replica do quindi la parola se mi consentite anche per questione di galanteria alla dottoressa Tiziana Siciliano procuratore aggiunto presso la procura di Milano prego dottoressa buongiorno grazie soprattutto per la galanteria ormai piuttosto desueta quindi sul tema ho letto con grande attenzione le proposte che sono state presentate e devo dire che dopo essermi consultata anche con i colleghi nell'ambito proprio delle mie specifiche funzioni io coordino il dipartimento che si occupa di pubblica amministrazione le considerazioni più stringenti e necessariamente contenute nel tempo sono la fotografia di un reato che praticamente di fatto è inapplicato se per applicazione intendiamo il raggiungimento di una sentenza di condanna è una fotografia impietosa ma assolutamente assolutamente corretta a Milano abbiamo iscrizioni non molte per articolo 323 sentenze di condanna rarissime e credo che questo sia un fenomeno così come fotografato che corrisponde a tutta l'Italia il ragionamento è presto fatto è un reato sostanzialmente impossibile da provare da portare a suo compimento esplicativo completo le differenti riforme che ci sono state dalla formulazione originaria che ci consentiva un'utilizzazione per quanto residuale è sempre stato un reato residuale l'articolo 323 adesso hanno così tanti distinguo e paletti e complicazioni di tipo probatorio da renderlo sostanzialmente quasi una lettera morta se non per quanto riguarda Milano o quantomeno nella parte della violazione dell'obbligo di astensione laddove vi sia un interesse privato proprio o altrui che poi un po' richiama la vecchia formulazione abrogata dell'interesse privato in atti di ufficio ora l'assoluzione che viene proposta di abrogazione tutur del reato francamente però sconcerta perché qua non si guarda un pochino la genesi adesso abbandoniamo quelle stravaganti teorie che vedono i PM come colpiti da una sorta di bulimia investigativa per cui dilagano in maniera vorace su tutti i campi delle condotte umane per soddisfare non si capisce bene quale proprio bisogno ma la realtà è che buona parte dei reati dei fascicoli che vengono iscritti per abuso di atti d'ufficio sono denunce di cittadini di fronte a metto tra virgolette malefatte da loro individuate come tali della pubblica amministrazione talvolta in termini non così generici dal luogo a una immediata collocazione negli atti non costituenti reato abbastanza specifiche da fare individuare che una violazione sia concepibile ma sarà concepibile e concepita soltanto quando avremo modo di riconoscere e ricostruire un fatto che poi possa essere sovrapposto alla norma strata prevista dalla legge vedendo se poi corrisponde se noi non possiamo fare neanche questa attività francamente risulta un pochino difficile per cui andiamo a vedere e ci rendiamo conto che moltissime denunce parlano proprio di doglianze rappresentano doglianze della collettività rispetto a fatti che si manifestano come reati ma ovviamente parti dalla base quando si parla di residuale si pensa sempre di avere sperito tutte le strade e che residui questo rigagnolo costituito dall'articolo 323 ma la residualità può essere anche concepita inizialmente cioè partire da un ipotesi di reato concepibile che ha un suo fondamento una sua ragionevolezza in termini così come concepito adesso di violazione di legge ormai non c'è più l'eccesso di potere quindi voglio dire soltanto in termini di violazione di legge e come tale si cerca di inquadrare pur in una fattispecie minimale quello che viene descritto dal cittadino come un fatto che gli ha cagionato un danno che ha procurato un vantaggio patrimoniale insomma che ha sviato da quello che è la correttezza del comportamento della pubblica amministrazione indeterminatezza non credo proprio in una formulazione come quella che è stata data adesso parlare di indeterminatezza dell'articolo 323 francamente risulta veramente un po' paradossale forse è una determinatezza talmente compressa che rende tutto molto difficile perché altrimenti che cosa rimane? Rimane soltanto una valutazione di un mancato obbligo di astensione quello invece rimane chiaro e determinato per cui io trovo che questo clamore che viene suscitato questo disvalore che viene legato al fatto che moltissimi fascicoli che si creano con la contestazione di 323 finiscono con archiviazioni quasi sempre ben difficilmente se si arriva poi anche al processo vero proprio non solo non deve essere visto come patologico ma secondo me addirittura come positivo cioè significa un corretto funzionamento della giustizia penale rispetto a precise doglianze noi non iscriviamo i fascicoli perché ci svegliamo al mattina con la fame di indagare iscriviamo fascicoli perché qualcuno denuncia un fatto che concepisce come fatto di reato a cui noi dobbiamo dare una risposta che può essere certamente anche negativa anzi giustamente se il sistema funziona correttamente molto spesso è negativa ci sono norme di garanzia norme difensive che rendono ovviamente ancora più stringente questo nostro obbligo che noi PM consideriamo prioritario noi ripeto l'ho detto anche in altre occasioni noi non siamo l'organo dell'attività noi rappresentiamo lo Stato è una cosa differente noi cerchiamo le prove a favore nei confronti di un indagato e di un imputato siamo obbligati a farlo quindi non riesco veramente a capire perché questo allarme rispetto a un meccanismo che evidentemente funziona che a fronte di numerosissime denunce che vengono presentate forse magari ragionando un po' su inerzia della pubblica amministrazione nell'autocorreggio dei propri errori hanno una risposta giudiziaria ma corretta e che molto spesso si va a arenare direttamente nelle indagini preliminari conseguente senza danno senza neanche iscrizioni voglio dire di carichi pendenti questo è un punto di vista che mi fa vedere con grande preoccupazione o sfavore l'idea di una abrogazione tutur e mi fa domandare come un'ulteriore compressione e limitazione rispetto a quella già francamente enormi e qua c'è una grande rappresentanza i procuratori della repubblica quindi direi proprio che potranno forse confermare il mio punto di vista ma le limitazioni fornite dall'articolo 323 nella formulazione attuale cioè dopo il 2020 sono già assolutamente mettono in un angolo e lasciano uno spazio di apertura veramente modestissimo che spiega anche le numerosissime archiviazioni e anche sentenze di assoluzione credo di essere rimasto nei 5 minuti che mi avevate concesso grazie dottoressa siciliano la parola al dottor Bruno Cherchi procuratore della repubblica presso il tribunale di Venezia prego dottor Cherchi signor Presidente onorevoli deputati buongiorno io anch'io sarò breve come la collega siciliano che mi ha appena preceduto volevo solamente partire dare un flash per quanto riguarda la normativa internazionale che come noto sia la convenzione di Strasburgo del 2002 sia la convenzione di Medio del 2003 pongono delle indicazioni in relazione a questa tipologia di reato cioè all'abuso di nati d'ufficio e al 346 bis del nostro codice penale peraltro sottolineo che mi pare che se il mio inglese ha ancora qualche riscontro che più che un obbligo mi pare che la normativa internazionale individui la necessità di considerare l'adozione delle fatti specie ma non di introdurre in maniera inderogabile lascia quindi comunque al legislatore nazionale poi la possibilità di variamente integrare questa indicazione indicazione sovranazionale passiamo brevemente in particolare all'abuso all'abuso d'ufficio dico anche che per la verità l'Italia aveva anche in un primo momento a posto delle riserve queste indicazioni europee che poi erano state superate in particolare con l'introduzione del 346 ministeri policial abuso d'ufficio quindi il problema sembra essere quello della paura della firma allora sicuramente la paura della firma è stata allegata da tantissimi sindaci tantissimi funzionari pubblici quindi comunque bisogna tenere presente questa questa indicazione che a giusto o a torto comunque è sentita è sentita come come un pericolo come una una difficoltà nell'agire nell'agire amministrativo penso che questa paura ripeto è sicuramente esistente dipenda anche in gran parte dalla confusione della normativa amministrativa da un lato e dall'altro anche dalla difficoltà della limitatezza dalla insomma difficoltà generale dei controlli all'interno della pubblica amministrazione questo perché perché si nota l'ha appena detto la collega siciliana che noi siciliano che noi abbiamo negli uffici di procura quantomeno quello che rappresento una quantità rilevante di denunce o esposti o comunque di attività soprattutto di privati ma anche di appartenenti alla pubblica amministrazione dei vari uffici ma anche di consiglieri comunali ad esempio che in continuazione direi perché il numero è rilevante sottopongono attività o atti comportamenti che loro ritengono lesivi alla procura della giusta e questo che che ha evidentemente portato alla creazione e al mantenimento almeno finora del 323 del codice penale che come è noto ha avuto per una storia molto travagliata nel tentativo sempre di limitare la portata della fattispecie e portata della fattispecie che comunque lascia ancora dei margini dei margini di intervento pur evidentemente nella difficoltà di tipizzazione effettiva delle condotte penalmente rilevanti tanto che ancora si discute se può essere un'alternativa all'abolizione se può essere ulteriormente delimitata la fattispecie è stato è stato ricordato ma è noto che esiste una grande una grande differenza tra il le iscrizioni al modello 21 e quindi l'iscrizione al registro degli indagati e poi le effettive condanne del ottenuto poi in sede giurisdizionale una differenza talmente elevata che indubbiamente deve stimolare una una riflessione anche se la sentenza 8 del 2022 della Corte Costituzionale ha detto che questa differenza tra numeri di iscrizione e numeri di condanne non come dire non giustifica un intervento limitativo allora su questa su questa sproporzione che io penso sia il punto centrale del uno dei punti centrali della riflessione e sicuramente dobbiamo dire come ricordavo che esistono una quantità enorme di enorme insomma una quantità rilevante di denunce poste dai cittadini e dagli stessi amministratori pubblici che evidentemente ritengono di rivolgersi all'autorità giudiziaria penale invece di rivolgersi alle controlli interni come ho detto probabilmente sono di scarsa rilevanza di scarsa efficienza o comunque di non soddisfazione pensando che appunto l'attività penale possa essere possa essere ecco questo però a mio avviso va va detto insieme ad un'altra ad un altro elemento cioè che spesso queste denunce in qualche maniera o questi esposti meglio ancora spesso hanno un duplice un duplice indirizzo cioè la procura della repubblica e la stampa cioè intendo dire che queste tipologie di esposti spesso hanno più un obiettivo o hanno anche un obiettivo di far partecipare l'attività per interessi di vario tipo spesso spesso moltissimo saranno anche come dire di interesse pubblico generale ma talvolta nascondono anche contrasti che veri o supposti che vengono proposti per un'indagine penale ripeto probabilmente perché il sistema amministrativo sia quello dei controlli interni sia quello del controllo del giudice amministrativo non sono ritenuti corretti o sufficienti allora se noi abbiamo però questa differenza enorme tra denunce e condanne penso che la valutazione non deve essere solamente quella di rilevare che proprio perché ci sono queste assoluzioni e queste così poche condanne il problema non esiste perché a mio avviso il grosso problema non è solo visto appunto questa episodicità delle condanne non è tanto o solo quello della condanna ma il problema è il processo meglio ancora lo stesso procedimento che si svolge in indagini preliminari questo perché moltissime volte spesso è questo il vero obiettivo l'esposto la denuncia viene in qualche maniera strumentalizzata per poter avere spazio nella stampa nei giornali e quindi il danno per il pubblico funzionario non è solamente quello della condanna penale che ripeto è assolutamente limitata ed è limitata probabilmente per dati di prova ma è limitata dalla stessa fattispecie come è stato più volte ricordato il problema sono le indagini preliminari sono le indagini preliminari perché l'iscrizione al registro degli indagati provoca una esposizione pubblica che spesso è la vera sanzione o il vero danno che il soggetto accorre perché l'oggetto il soggetto come dire sui quali si attesta la richiesta di indagini o la disposizione di indagini eccetera allora io penso che è un problema un po' più generale rispetto all'abuso di ufficio ma direi che forse questo è il caso che consente un approfondimento il problema è quello a mio avviso di normare in maniera puntuale l'iscrizione delle notizie di reato e cioè meglio precisare in termini normativi quando si deve procedere all'iscrizione al modello 45 fatto a non costituente reato o a modello 21 e cioè indagato e quindi fatto costituente reato che naturalmente è oggetto di indagini questo passaggio allo Stato ha una indubbia possibilità di discrezionalità che è giusta perché è chiaro che la valutazione deve essere fatta però finora su questi argomenti si è intervenuti soprattutto con atti organizzativi dei procuratori della Repubblica perché non vi è una precisa indicazione normativa ci sono anche delle sentenze della Cassazione che lo individuano però io penso che questo dovrebbe essere normato cioè ci dovrebbe essere un intervento degli esilatori per quanto possibile che probabilmente dovrà lasciare uno spazio comunque di valutazione al procuratore della Repubblica e che però in qualche maniera da un lato precisi meglio le indicazioni del registro e dall'altro anche questo tipo di valutazione che pur restando discrezionale può creare qualche problema in relazione alle modalità di discrezione da questo deriverebbe anche il problema del visto del procuratore della Repubblica su questa tipologia di atti ad esempio sull'archiviazione del modello 45 che allo Stato per circolare del Consiglio Superiore è essenzialmente semplicemente un visto di conoscenza ma non un visto nel merito ecco io penso che tutte queste date al di là poi delle concrete modalità con cui si dovesse ritenere di intervenire penso però che ci dovrebbe essere un intervento normativo che in qualche maniera rendesse più chiaro tutti questi passaggi e che non lasciasse né agli atti organizzativi delle procure ma neanche alle variabili indicazioni regolamentari quindi amministrative del Consiglio Superiore della Magistratura una materia così delicata che ripeto consente non tanto come abbiamo detto più volte di giungere a condanne ma consente un'attività di indagine anche su fatti che probabilmente non lo meritano ma che sono necessitate da esposti e aggiungo che la normativa in tema di calunia che pure potrebbe essere astrettamente applicabile di fatto viene come dire è assolutamente una norma non attivabile perché poi non si riesce mai a provare il dolo del 368 vi ringrazio grazie a lei dottor Kerchi la parola al dottor Maurizio De Lucia procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo prego dottor De Lucia grazie grazie presidente buongiorno naturalmente condivido in altissima parte quello che è stato già detto dai colleghi che ho ascoltato abuso d'ufficio come prima questione da trattare non c'è dubbio che l'attuale disciplina a frutto della novella del 2020 ha sicuramente in termini di tassatività ristretto di molto la fattispecie questo è uno dei risultati che vediamo cioè il numero limitato non tanto di iscrizioni quanto di procedimenti che portiamo avanti quindi con un limitatissimo numero di sentenze questo per la verità non dipende soltanto dalla fattispecie ma anche dalla prescrizione perché come è noto la prescrizione inizia a decorrere dal momento del fatto e talvolta i sette anni e mezzo nei quali si prescrive il reato non sono sufficienti nell'attuale sistema ad arrivare a una sentenza in Cassazione quando si arriva per la verità la sentenza della Cassazione in genere la Cassazione conferma le sentenze di condanna che vengono dai giudici di merito ma ripeto i casi sono sicuramente pochi ed è vero che il problema fondamentale certamente non attiene alla iscrizione per abuso di ufficio da conflitto di interessi perché sono pochissime le ipotesi dovremmo trovare il pubblico ufficiale che ha adottato un atto omettendo di estenersi a fronte di un interesse proprio o di un proprio congiunto per le altre iscrizioni la tassatività di cui ho parlato ne riduce fondamentalmente in maniera significativa il numero però è molto vero quello che si diceva a proposito della paura della firma per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari perché intanto è esperienza comune che l'abuso d'ufficio trova origine in esposti di varia natura presentati da cittadini da altri amministratori e anche da concorrenti politici nell'ambito dei consigli comunali è piuttosto frequente che sia la minoranza a presentare esposti con i quali denunciare la maggioranza ebbene allo Stato la disciplina di questa notizia di reato che viene raccolta dal pubblico ministero impone salvo casi clamorosi di iscrizione nel registro delle notizie di reato perché la riforma cartabbia dello scorso anno onera il pubblico ministero dell'iscrizione sottoponendo la valutazione dell'iscrizione a un potere di controllo del giudice e in qualche misura esponendo lui il pubblico ministero una denuncia per obuso d'ufficio o per omissione di attività di ufficio nell'ipotesi in cui sceglie di non procedere all'iscrizione di conservare la notizia nel noto registro modello 45 che invece aveva una sua ragione d'essere proprio per l'ipotesi in cui si debbano trottare le notizie che sono a cavallo tra il malaffare amministrativo e il penalmente rilevante che all'esio di quella valutazione il pubblico ministero avrebbe potuto decidere di positivo c'è il fatto che la stessa legge cartabia allunga i termini di indagine a un anno e quindi le cosiddette proroghe delle indagini che vengono notificate dall'indagato e che alimentano la paura della firma che sono sono numerosissimi i casi di notizie di reato che ci pervengono rispetto alle quali il pubblico si è d'attiva nel termine dell'indagine e nessuno ne sa niente compreso l'indagato il quale ha nessuna ragione di preoccuparsi e di alimentare la cosiddetta paura della firma che dicevamo beh questo termine di un anno rende meno frequente la proroga delle indagini che equivale nella sostanza alla informazione di garanzia e quindi al fatto che anche l'amministratore viene a coscienza di una procedura che comunque si sarebbe orientata nella più parte dei casi ma su questa disciplina incide l'articolo 408 del codice di procedura penale perché è piuttosto frequente che l'esponente lamentandosi della condotta del pubblico funzionario denunciato chieda di essere avvisato per la conclusione delle indagini o per la proroga delle indagini e quindi la pubblicità della notizia avviene in forza della comunicazione che viene fatta alla asserita persona offesa che comunque ha il diritto di essere informato anche della presenza rispetto alla quale può essere l'opposizione quello è uno dei momenti nei quali come dire può avere una eco significativa la vicenda processuale che altrimenti sarebbe rimasta serenamente nel segreto di un'indagine che sostanzialmente l'indagine non è una volta che il ministero ne ha valutato in fronte di questa dopodiché è molto vero anche quanto si diceva sul fatto che non c'è una bulemia di cercare le notizie di reato in particolare le notizie di reato relative a questo tipo di condotte devo dire questa bulemia ammesso che ci fosse stata si riduce ancora in maniera significativa oggi sulla scorta della modifica dell'articolo 270 del codice di procedura penale perché oggi non è utilizzabile l'intercettazione nella quale emerga una condotta di abuso d'ufficio perché il legislatore impedisce l'utilizzabilità delle intercettazioni per reati che in astratto non potevano essere intercettati questa cosa in terra a forte infiltrazione mafiosa come quella in cui io esercito la mia funzione ha un significato importante perché al di là delle notizie di reato che provengono da esponenti politici o dei cittadini soddisfatti che dicendo una preziosa fonte per acquisire illeciti nei confronti della pubblica amministrazione sono proprio le indagini di mafia nella misura in cui le intercettazioni fatte con quel regime evidenziano comportamenti non corretti della pubblica amministrazione e quando ne parliamo in indagini di mafia evidenziano quindi condotte i soggetti che da un lato sono pubblici amministratori ma dall'altra parte sono quantomeno contidi con le organizzazioni mafiose il non poter utilizzare lo strumento del 323 nei confronti di questi soggetti quindi si può fare indagini per questo reato oggettivamente impone una limitazione anche quindi alle indagini in tema di criminalità organizzata e ancora chiaramente ho letto le proposte legislative dico subito che le modifiche devono tenere conto necessariamente dell'ordinamento internazionale sono state già citate la convenzione dell'ONU contro la corruzione del 2003 ma direi di stringente attualità la direttiva europea la cui proposta è formulata il 3 maggio del 2023 che prevede espressamente a mio giudizio condotte di abuso di vantaggio che devono essere punite quindi un ragionamento sulla modifiche del 323 necessariamente deve tenere in piedi la punibilità delle condotte abusive di vantaggio anche perché se così non fosse noi il diritto penale come la fisica non esistono vuoti è assai ragionevole che gli spazi non coperti dalla fattispecie del 323 verranno coperti da altre condotte che devono essere indagate per quella che è l'esperienza del mio ufficio ma immagino non soltanto del mio ufficio le potenziali fattispecie penali riguardano in particolare il settore degli appalti pubblici quello dei concorsi pubblici quello degli affidamenti diretti di incarichi fiduciari è quello di liquidazioni non spettanti in denaro il che apre il campo a indagini in tema di leciti incanti quindi 353 353 bis del codice penale che dovrebbero immagino per avere la copertura penale dei beni da proteggere sul piano costituzionale e considerare anche gli posti di concorsi pubblici che in questo momento in tema di incanti invece non rientra nella disciplina il tema degli affidamenti diretti di incarichi fiduciari che pure dovrebbe essere e rientrerebbe ragionevolmente nelle fattispecie del 353 353 bis e per quanto riguarda le liquidazioni non spettanti di denaro immagino che la contestazione del delitto di peculato del 414 del codice penale sia ampiamente prevedibile non solo ma un'altra contestazione che per la verità quasi sempre concorre con le condotte di abuso che vengono contestate è quella del falso un reato di falso ideologico in atto pubblico punito in maniera molto più severa peraltro dell'abuso d'ufficio di quel 479 codice penale che immagina assai ragionevolmente troverebbe spazio nelle future indagini quindi la copertura della tutela di valori costituzionalmente protetti una volta abolito o modificato in termini interiormente radicali rispetto a quelli che abbiamo nel 323 ci porta a mio giudizio a un'espansione degli altri creati che investono la stessa area di condizione infine per quanto riguarda il traffico di influenze la proposta Pittalis fa riferimento alla specificazione chiedendo che l'utilità del trafficante debba essere il tipo patrimoniale qui per quello che abbiamo visto io e i colleghi del mio ufficio c'è un contrasto anche qui col diritto internazionale perché la convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 99 fa riferimento a qualsiasi vantaggio in debito e lo stesso per la verità anche la convenzione del 2003 fa riferimento a un indebito vantaggio nessuno peraltro quando parliamo di corruzione fa mai riferimento esclusivamente a un vantaggio patrimoniale ma si fa riferimento a un concetto di utilità più ampio e poi l'altra questione che ha tirato la nostra attenzione è l'ipotesi del cosiddetto traffico gratuito perché come è noto il traffico di influenze possiamo distinguere tra traffico gratuito e traffico oneroso ora se il traffico gratuito abbiamo inteso bene ricorre quando il trafficante si fa dare utilità per consegnarle al pubblico ufficiale questa condotta rimane comunque una condotta penalmente rilevante su specie di 318 di corruzione per atti dell'ufficio non per atti contrari dell'ufficio residerebbe un'ipotesi di traffico oneroso che ricorre quando il trafficante si fa remunerare per la sua opera di mediazione che questo si è illecito solo se vi è l'accordo per indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto illecito e quindi anche qui la disciplina salvorestando che ovviamente è fuori discussione la permanenza del reato all'articolo 346 bis andrebbe modificata nel senso di rendere sicuramente di conservare sicuramente illecito il traffico gratuito e il traffico oneroso nella misura in cui è finalizzato un accordo appunto per indurre l'ufficiale a compiere un atto illecito in alternativa si potrebbe immaginare una configurazione del reato specifico con una clausola del tipo che un consul di commettere reati agli articoli 318 319 319 322 bisse fuori dai casi di concorsi di questi segue poi la condotta che viene descritta dalla norma in buona sostanza credo di avere illustrato le riflessioni che io e i colleghi del mio ufficio abbiamo sviluppato su queste proposte e ringrazio la commissione e lei presidente per l'attenzione grazie a lei dottor De Lucia do la parola al dottor Marco Gambardella sostituto procuratore presso la procura generale di Bari prego dottor Gambardella sì grazie presidente spero si senta perché sto avendo problemi di connessione qui in procura generale si sente benissimo spero si fa bene ok allora io le ho letto con molta attenzione la proposta di legge è fatto ovviamente all'inizio della mia analisi della proposta relativa all'invocazione dell'annuncio d'ufficio e all'introduzione ecco dottor Gambardella abbiamo perso l'audio scusi dottor Gambardella perché abbiamo perso l'audio e quindi se può riprendere cortesemente perché non si sente ora la sentiamo sì prego non la sentiamo a tratti la sentiamo col cellulare forse io sento a tratti ora la sentiamo ora la sentiamo speriamo che vada bene adesso sì funziona? sì funziona ok ok allora io ho letto con attenzione dicevole la proposta di legge e alla contestuale introduzione di una di una nuova fattispecie amministrativa mi riferisco all'articolo 54 terra che dovrebbe essere inserito nel corpo del legge legislativo 165 del 2001 con la quale nuova fattispecie che prevede una sanzione amministrativa per le condotte rientrate e l'attuale risposto dall'articolo 323 la formulazione della fattispecie è identica e ho letto soprattutto con attenzione quelle che sono le ragioni poste a fondamento dell'abrogazione dell'abuso d'ufficio che voglio sintetizzare un attimo anche se ovviamente sono conosciuto benissimo dalla commissione mi pare di aver capito che i rilevi critici sono sostanzialmente il primo riferibile al dato statistico di cui mi hanno parlato anche i colleghi che mi hanno preceduto quindi la ridottissima emissione di pronunce definitivi di condanna e i numerosissimi decreti di archiviazione nel quale si perviene già sin dalla fase delle indagini il riferimento dei singoli procedimenti che pervengono o ad archiviazione o ad assoluzione cito testualmente a episodi di modestissimo o comunque modesto rilievo riguardanti per l'opera ipotesi di regolarità amministrativa il terzo rilevo critico invece è il presunto utilizzo strumentale da parte delle procure della Repubblica della fattispecie o l'abuso d'ufficio divenuta anche questa una citazione testuale grimaldendo delle procure finalisticamente utilizzato per intromettersi nella sfera riservata alla pubblica amministrazione in buona sostanza da ultimo si censura anche il difetto di tassatività della relativa fattispecie allora a mio avviso il primo punto di partenza del ragionamento è quello di separare due profili diversi evitare una confusione concettuale diciamo così il primo attiene alla necessità o meno di prevedere nell'ordinamento un'ipotesi di reato con riferimento a quelle che sono le condotte di abuso d'ufficio ci tornerò di qui a un attimo perché è chiaro che il confronto deve essere effettuato con quella che è l'attuale formulazione della fattispecie delineata a seguito della famosa legge spazia corrotte il secondo invece profilo è quello che attiene alle problematiche sia investigative che di accertamento della relativa fattispecie quindi sia nella fase di indagini sia nella fase dibattimentale eventuale perché effettivamente il dato statistico è sconfortante sono pochissime le pronunce di condanna ma ci tornerò di qui a un attimo l'attuale formulazione dell'articolo 323 quindi profilo che attiene alla necessità o meno di prevedere la relativa ipotesi di reato a mio avviso è già espressamente tassativa nella sua formulazione e contempla fatti connotati da rilevante gravità non di modestissima entità si tratta sostanzialmente senza che rileguo la norma per non far perdere tempo a nessuno di comportamenti di pubblici amministratori che consapevolmente violano norme di legge che prevedono regole tassatitive dalle quali appunto non residono i margini di dispezionalità e questa consapevolezza nel violare regole normative previste da fonti primarie è finalizzato il profilo del dolo intenzionale a procurare assieme ad altri un giusto vantaggio e questo è la fattispecie di cui si parla quindi un'intenzionale consapevole violazione di norme di legge finalizzata ad arregare ad altri giusto profitto questo è il dato questa è la tipologia di reato di cui parliamo e a mio avviso anche soltanto nella mera lettura della norma si tratta di fatti di indiscutibile gravità è una norma di misura del sistema ma che punisce fatti connotati da peculiare gravità ci tornerò di qui un attimo anche su facendo qualche episodio per quanto possibile altro è invece il profilo della difficoltà dell'accertamento investigativo e probatore in dibattimento che è indiscutibile ma quali sono le ragioni questa è la domanda a mio avviso rilevante quali sono le ragioni di questa difficoltà le ragioni principali e lo vediamo anche da quelle che sono poi le pronunce assolutorie qual è la formula assolutoria spesso si perviene da soluzioni per difetto dell'elemento soggettivo la difficoltà reale è quella di provare il dolo intenzionale i canoni interpretativi dati dalla Suprema Corte Cassazione sono plurimi ma comunque attengono anche alla verifica di quello che è l'obiettivo perseguito dal soggetto agente è evidente che una verifica di quello che è l'obiettivo del soggetto agente quindi del pubblico ufficiale è connotata intuibilmente da difficoltà enormi per le procure della Repubblica e a maggior ragione in sede dibattimentale perché si tratta di scandagliare profili soggettivi che spesso non emergono dalla mera violazione anche gravissima di una disposizione di legge o dalla volontà di procurare un giusto profitto allora qual è il dato? il dato sarebbe a mio avviso quello di probabilmente ampliare quelli che sono i poteri investigativi della propria della Repubblica e innanzitutto dare uno spazio per la verifica applicativa di quella che è la nuova formulazione dell'abuso d'ufficio ma anche eventualmente mi permetto di avanzare queste ipotesi e ampliare quelli che sono i poteri istruttori in capo alle procure della Repubblica eventualmente anche modificando l'articolo 266 del codice progetto penale e consentire le intercettazioni telefoniche e ambientali anche con riferimento a queste ipotesi di reato mi permetto di dire questo perché vi è un altro profilo rilevante e si prevede l'abrogazione dell'abuso d'ufficio con contestuale introduzione lo dicevo all'inizio di una autonoma fattispecie amministrativa che è scritta negli medesimi termini quindi con i medesimi elementi costitutivi dell'ipotesi di reato fino ad oggi vigente l'istruttoria sarà affidata secondo la nuova nella proposta di legge la nuova norma che dovrebbe entrare in vigore sarà affidata all'ANAC ed è previsto una istruttoria in contraddittoria delle parti mi chiedo se le procurare pubblica che evidentemente hanno dei poteri più penetranti di indagine rispetto all'ANAC non riesce sempre a provare soprattutto l'elemento soggettivo perché per le difficoltà che le ragioni di cui parlavo prima come farà l'ANAC a dimostrare tutti gli elementi costitutivi a seguito dei vari esposti le procurare pubblica condivido sono in base dai esposti anonimi da segnalazioni da parte di consiglieri comunali spesso all'opposizione e altro come farà l'ANAC e soprattutto siamo sicuri che il presunto utilizzo strumentale della fattispecie delle indagini in tema del buso d'ufficio sarebbe evitato affidando all'ANAC un istruttore per una fattispecie amministrativa si riverserebbe evidentemente soltanto nelle nuove procedure che poi determinevano a cascata una serie di ricorsi all'aggiuccio amministrativo per contestare appunto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato d'abuso d'ufficio temo che l'abrogazione dell'abuso d'ufficio finalizzata a scongiurare la paura della firma e la porrogazione difensiva possa in realtà determinare un bonus di tutela nell'ordinamento ed esporre i cittadini possibili abusi da parte dei pubblici amministratori infederi peraltro vi sono convenzioni sia internazionali si è parlato anche durante questa audizione la convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione che impongono a un certo punto di vista che la previsione di una sanzione penale per fattispecie analoga a quella che è oggetto di trattazione quindi dell'abuso d'ufficio e anche direttiva europee che pertanto credo ci siano anche elementi di natura normativa internazionale che ostano alla proposta di abrogazione una flash davvero per non rubare altro tempo per quanto riguarda le modifiche della fattispecie quattico 346 del codice penale modifica che sostanzialmente ha come si muove in un duplice profilo l'utilità in caso di approvazione della modifica sarà soltanto patrimoniale e l'attività oggetto che dovrà essere alla cui è finalizzata la mediazione dovrà avere una natura illecita anche qui leggo quelle che sono le argomentazioni della proposta di legge esigenza di rispettare il principio della legalità ed evitare un'artificiosa caccia difensiva a relazioni giuste per evitare una presunzione di criminosità dell'attività politica credo che queste argomentazioni non tengano in debito conto quella che la concreta applicazione della norma insieme del giurisdizionale vi sono plurime sentenze anche recentissime nella Corte Suprema di Cassazione ne cito soltanto due la 1182 del 1410 2021 e la 4518 dell'8 luglio 2021 che hanno già circoscritto prevedendo espressamente l'illecità finale di quella che è l'attività del pubblico ufficiale che poi sarà avvicinato dal mediatore leggo soltanto la massima in termine di traffico di influenze la mediazione è onerosa e illecita se l'accordo tra il committente e il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi di debiti al primo non assumendo rilievo l'illegittimità negoziale per difformità dal contatto tipico di mediazione preesistente o potenziale tra il mediatore pubblico agente per il conseguimento di un fine lescito già la concreta applicazione giurisprudenziale in serie di legittimità quindi nella massima serie giurisdizionale e lì deradisce quelle che sono le preoccupazioni a mio avviso che porterebbero alla prospettata modifica della fattispecie di cui trattasi vi sono anche altre pronunce relative ad esempio alla fattispecie della raccomandazione di questa che è stata esclusa la rilevanza penale e pertanto credo che qualsiasi modifica considerando quella che è la compiuta applicazione giurisdizionale della relativa fattispecie sia superfola grazie mille grazie a lei dottor Gambardella la parola al dottor Francesco Prete procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia prego dottor Prete grazie presidente ringrazio lei i membri della commissione per questo invito cercherò di essere rapido dicendo partendo da una considerazione l'attuale dibattito ha generato tre posizioni quella di chi vuole abolire il reato stesso quella di chi lo vuole conservare quello di chi lo vorrebbe riscritto magari dopo aver atteso la direttiva che attualmente è al vaglio dei competenti organismi europei dopo lo scandalo Catargate le ragioni a sostegno della proposta diciamo più radicale di abolire il reato risiedono sostanzialmente in due aggettivi si dice che l'attuale fattispecie sia inutile e dannosa inutile nella misura in cui non porta quasi mai a condanna dannosa perché nel frattempo ha generato l'avvio di un procedimento che di per sé solo genera discredito per la pubblica amministrazione e afflizione per il pubblico funzionario che lo ha subito e che ha pazientemente atteso un esito che quasi sempre è assolutorio i fautori della conservazione invece ritengono che soprattutto a seguito della riforma del 2020 si sia risolto il problema della indeterminatezza della fattispecie per cui non resta altro che sensibilizzare i pubblici ministeri a non effettuare iscrizioni avventate che come detto di per sé solo generano generano danno bene io non mi annovero poi spero di fare in tempo a dire qual è il mio punto di vista finale non mi annovero fra i fautori dell'abolizione del reato e tuttavia mi convincono direi poco assai poco gli argomenti di chi vorrebbe conservare lo status quo cioè il reato così com'è con tutte le sue ricadute negative mi convincono poco perché il problema non è affatto quello di sensibilizzare i pubblici ministeri a non fare iscrizioni avventate come è stato detto da chi mi ha preceduto noi riceviamo direi quotidianamente segnalazioni esposti abusi scusi esposti denunce per abusi e il pubblico ministero regola la mano non può fare altro che iscrivere questi questi esposti in un registro per cui la scelta è indotta direi imprescindibile direi doverosa da parte del pubblico ministero il quale è vero può iscrivere al cosiddetto modello 45 ma vorrei segnalare a chi non è non frequenta le aule di giustizia quotidianamente che sta prendendo piede una tendenza cioè quella di denunciare il pubblico ministero per avere iscritto l'esposto originario a modello 45 averlo autoarchiviato come si dice e questo sta generando un contenzioso che chi lavora nelle procure distrettuali come dire e percepisce quotidianamente questo naturalmente non riguarda questo trend increscendo delle denunce contro i pubblici ministeri riguarda anche i giudici per avere assunto o non assunto determinate decisioni ma non è di questo che dobbiamo parlare oggi semmai vorrei parlare del merito cioè il dire la situazione oggi la formulazione è appagante sotto il profilo della determinatezza il che poi ha un retropensiero purtroppo e fin troppo determinata si dice da alcuni perché ci si ci impedisce al giudice penale il valio sulle scelte della pubblica amministrazione almeno sotto il profilo dell'eccesso di potere e dello sviamento di potere comunque chi ritiene che oggi la situazione la descrizione della fattispecie sia appagante credo che e perda abbia perso di vista o meglio rischi di perdere di vista quelle che sono le critiche di controparte critiche che devo dire in qualche misura traspaiono anche dalla citata sentenza numero 8 della Corte Costituzionale che nel 2020 ha ricordato che l'intento del legislatore del 2020 cioè quello del decreto semplificazioni sia stato quello di rendere trasparente l'intento di sbarrare la strada a interpretazioni giurisprudenziali cito le parole della Corte che avevano dilatato la sfera di operatività della norma introdotta nel 97 mi pare di cogliere una critica che la Corte Costituzionale muove alla giurisprudenza di legittimità la quale nonostante il legislatore del 97 avesse ristretto l'ambito di sindacato del giudice penale solo alla violazione di legge ha tuttavia esteso nel suo diritto giurisprudenziale vivente esteso anzi continuato ad estendere il sindacato del giudice penale anche all'eccesso di potere sotto forma di sviamento il che dice la Corte ha iluso quella che era la voluntas legis e qui segnalo una sentenza la 442 del 2020 della Suprema Corte che tuttora anche dopo la riforma del 2020 continua a dire ben inteso il giudice penale non può sindacare il merito salvo che lo sviamento di potere non sia così evidente da renderlo esso stesso una violazione di legge insomma come si suol dire qui stiamo parlando di soggetti istituzionali che parlano due lingue diverse il legislatore che già nel 97 aveva detto al giudice penale non devi sindacare l'eccesso di potere lo sviamento quindi le scelte ed una giurisprudenza di legittimità e non solo che invece continua a farlo a questo punto quando dicevo non condivido poi tanto le gli argomenti di chi vuole conservare la norma così com'è mi sembra che si debba fare i conti con chi vuole ad un certo punto prendere atto di questa sordità della giurisprudenza e arriva a dire va bene visto che non vuoi intendere la restrizione del del tuo perimetro di valutazione ti tolgo il giocattolo scusate l'espressione insomma ti ti abolisco ti abrogo la norma abolisco il reato e così risolvo in radice il problema questa ha portato dicevo questo scontro questa giurisprudenza che nonostante tutto continua a rivendicare il potere di sindacare le scelte ha portato all'ultima riforma quella del duemilaventi che a mio avviso non risolve ma ingigantisce il problema perché oggi si finisce per punire in astratto devo dire molto in astratto l'abuso d'ufficio solo quando sia in violazione di regole espressamente previste dalla legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità per chi non l'avesse capito questo vuol dire che non si può sindacare tutta l'area della discrezionalità amministrativa e tecnica che deve essere appannaggio esclusivo della pubblica amministrazione piaccia o non piaccia naturalmente si può condividere ma questa è la volontà slegis se non la si è capita è evidente il legislatore arriva alle sue estreme conseguenze e abbonisce il reato allora cosa ce ne facciamo di una norma così come oggi strutturata che più di prima porterà le assoluzioni perché se oggi noi pensiamo che il pubblico ufficiale abusi del suo ufficio e arrechi procuri vantaggio o arrechi danno eh violando semplicemente norme vincolanti cioè quelle norme che stabiliscono l'anno il quid e il comodo vuol dire che scusate l'espressione eh un po' ruvida non ha capito come funziona cioè l'esperienza ci dice che gli abusi di ufficio si annidano nell'ambito in quella sfera di discrezionalità nell'ambito della quale il pubblico ufficiale eh come dire fa delle scelte improprie eh distorce il potere per fini privati e non lo fa violando una norma cogente vincolante che ripeto eh gli 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 impone e stabilisce tempi e contenuto dei suoi atti cosa ci fa ce ne facciamo di una fattispecie che che non porta nessun risultato in termini di efficacia repressiva e comunque induce le procure della Repubblica a iscrivere perché come è stato detto l'ho detto anch'io ma l'ha detto chi mi ha preceduto un'iscrizione è doverosa e allora eh noi riusciamo contemporaneamente a scontentare questa è la mia punto di vista la riforma del 2020 finisce per scontentare sia chi ha a cuore il buon andamento e la pubblica e l'imparzialità della pubblica amministrazione perché nel momento in cui il giudice penale non può sindacare il merito o meglio le scelte discrezionali va da sé che non arriva molto lontano ma scontenta anche chi oggi ritiene che già l'avvio di un procedimento sia inutile ed è nostro perché anche con questa formulazione l'avvio del procedimento sta da fare allora eh io dove dove vorrei diciamo dove vorrei arrivare vorrei arrivare a dire che con la riforma del 2020 i cui frutti si stanno già vedendo perché voglio dire le assoluzioni arrivano più numerose di prima si è lasciata fuori questa l'area della discrezionalità il che rende il reato di per sé improduttivo e e come se ne può uscire a mio avviso se ne può uscire e mi spiace eh pensarla diametralmente all'opposto della proposta pella se ne può uscire semmai abrogando l'abuso di danno ma giammai abrogando l'abuso di vantaggio l'abuso di danno è quello che statisticamente genera il contenzioso normalmente il cittadino si rivolge alla procura della repubblica perché ritiene di aver subito un danno sono più rare le ipotesi in cui anzi spesso siamo sono le altre indagini che ci portano a scovare un abuso di vantaggio normalmente la la statistica ci dice che l'abuso di danno che 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 fa numeri e e al di là di questo aspetto che potrebbe essere irrilevante io credo che l'ordinamento in presenza di un danno inferto da una cagionato da un atto amministrativo illegittimo abbia una via maestra il cittadino si può ricorrere al giudice amministrativo che gli chiederà di rimuovere a cui chiederà di rimuovere l'atto causativo del danno perché questo non si fa qualcuno ha detto perché l'accesso al giudice penale è gratuito l'accesso al giudice amministrativo non lo è vorrei però dire se mai ipoteticamente potessi parlare con quello che ha denunciato alla procura il danno che la strada che ha intrapresso è poco produttiva perché giammai il pubblico il giudice penale potrà riparare il danno subito non rientra nei poteri del giudice penale sto per finire dico soltanto che invece riterrei eh riterrei tutto diciamo giuridicamente inaccettabile o meglio o meno molto comprensibile la la l'abolizione anche dell'abuso di vantaggio questo non soltanto perché l'abuso di vantaggio e ci verrà credo io imposto dalla dalla legislazione sovranazionale e quindi l'eliminarlo ci espone al rischio di infrazioni ma perché nell'abuso di vantaggio come dire si coglie quello che è il nucleo dell'approfittamento dello sfruttamento della funzione cioè io la piego per eh apportare vantaggio profitto arricchimento a me stesso o ai miei correi in questo senso il disvalore giuridico è pieno e non sono così sicuro che tu che un quel fatto possa può essere sussunto sotto altre fattispecie di reato si rischia semplicemente di non punirlo se io al di là di un atto anche con un comportamento anticipo al concorrente quali saranno i temi del concorso e gli faccio vincere il concorso perché non punire non coprire penalmente quella vicenda se io eh i dirigenti di un ufficio urbanistica tratto una pratica del mio socio di studio magari occulto perché negare disvalore ad una situazione del genere ecco perché ritengo che l'abuso di vantaggio che contiene ripeto in sé il disvalore dell'abuso d'ufficio molto più del danno che può trovare rimedio altrove debba essere conservato così come debba essere mantenuto l'abuso per violazione dell'obbligo di astenersi perché qui direi che è in re ipsa l'approfittamento lo sfruttamento concludo dicendo che probabilmente è quello che va quello che sono che il pensiero che traspare è che è un pensiero che trovava prima una sua qualificazione nell'interesse privato in atti d'ufficio una figura che forse è stata troppo sbrigativamente abrogata nel nostro ordinamento grazie grazie a lei dottor Prete la parola al dottor Francesco Lovoi procuratore della Repubblica presso la procura di Roma prego dottor Lovoi presidente buongiorno grazie a lei e ai commissari per questa convocazione vi ringrazio anche per l'attesa dovuta inizialmente ad un impegno personale di quelli non prorogabili purtroppo ma comunque superati anche i problemi tecnici spero possa arrivare la mia voce in maniera sufficientemente comprensibile in codesta aula è chiarissima dottor Lovoi prego la ringrazio dicevo ringrazio per la convocazione perché è stata voce a coloro che come ricordava pochi minuti addietro il collega Francesco Prete alle cui considerazioni potrei largamente riportarmi ad eccezione di un solo punto che adesso menzionerò ascoltano sostanzialmente quelli che operano nella pratica quotidiana e che quindi che vedono quotidianamente arrivare sui loro fascicoli i vari atti con cui i cittadini o altri componenti delle pubbliche amministrazioni o le forze dell'ordine direttamente denunciano determinati fatti con riferimento ad una determinata impostazione giuridica riguardante i due reati di cui stiamo in questo momento discutendo perché ne stiamo discutendo perché come è stato ricordato vi sono queste tre impostazioni abrogare trasformare parliamo dell'abuso d'ufficio abrogare trasformare in illecito amministrativo lasciare tutto com'è e allora perché molte cose sono state già dette e vorrei essere breve io vorrei limitarmi ad alcune brevi considerazioni in tre punti principali il primo brevissime considerazioni sui due articoli all'esame e cioè il 346 bis e il 323 cominciamo dal 346 bis si tratta di un reato plurioffensivo in cui il bene giuridico tutelato è anche quello di tutelare anzi di evitare la sovra rappresentazione di interessi privati fondata su una relazione non professionale di taluni interessi privati in danno degli altri se come è previsto da una delle proposte di legge in particolare quella pittalist ed altri in cui si propone di intervenire appunto sul 346 bis e si verrebbe a impedire il perseguimento di alcune condotte di mediazione remunerate anche da parte di dipendenti pubblici che intervengono in ambiti in cui il sistema non tollera alcuna mediazione faccio degli esempi e faccio degli esempi che riguardano magistrati poi spiegherò perché pensiamo all'ipotesi di mediazione remunerata per l'esercizio della funzione giudiziaria che non sia ovviamente quella degli avvocati per cui un magistrato riceve somme di denaro per interferire sulla funzione di un altro magistrato per esempio affermando poco importa se in buono o in mala fede che taluno è innocente e quindi deve essere assolto con la nuova formulazione che viene proposta questo magistrato che prende anche denaro non risponderebbe dell'illecito in esame e la stessa cosa avverrebbe per la mediazione remunerata per la nomina di vertici di uffici giudiziari salterebbe la punibilità non mi sembra che tutto questo corrisponda al sentire comune e credo anche al sentire più diffuso della pubblica opinione andiamo all'articolo 323 la sua abolizione lascerebbe priva di protezione penalistica tutta una serie di fatti specie che meriterebbero ad avviso mio e anche ad avviso dei colleghi dell'ufficio Roma su questo ha un osservatorio abbastanza particolare perché essendo la capitale d'Italia il centro di tutta una serie di attività di attività amministrative e non solo e anche finanziarie collegate a quelle amministrative offre materiale di studio in gran quantità pensiamo per esempio all'affidamento diretto sopra soia che secondo la Corte di Cassazione oggi può costituire abuso d'ufficio dove sussistano i requisiti anche soggettivi e che domani invece resterebbe totalmente privo di tutela penale o pensiamo è stato fatto un esempio simile dal collega Prete per pochi minuti addietro all'alterazione dei concorsi pubblici posto che la truffa o la tentata truffa è difficilmente configurabile col piano teorico noi abbiamo avuto recentemente un caso in cui un candidato ha trasmesso a un componente della commissione per l'esame di magistrato i segni di riconoscimento del proprio compito dei propri compiti scritti in modo tale che il commissario potesse agevolarlo nella valutazione degli stessi temi ebbene se noi non avessimo avuto il reato di abuso d'ufficio e peraltro abbiamo contestato nella forma del tentativo perché per fortuna siamo riusciti a scoprire questo reato in tempo e quindi ad impedirne la completa commissione evidentemente se non avessimo avuto il reato di abuso d'ufficio questa condotta che a me pare sinceramente grave non solo perché si riferiva al concorso in magistratura ma perché si riferiva comunque a un concorso pubblico ebbene questa condotta sarebbe rimasta totalmente priva di tutela penale sempre sul 346 bis se mi è consentito ancora e l'utilità esclusivamente patrimoniale anche qui è stato ricordato e generalmente questa specificazione della patrimonialità non è presente in alcuna di queste norme che riguardano la tutela dei reati contro la pubblica amministrazione perché non dovrebbe essere punita per esempio quella a carattere sessuale che invece viene purtroppo spesso comunemente utilizzata come forma di scambio perché con l'inserimento dell'aggettivo illecito sempre nel 346 bis dovrebbe rimanere priva di tutela penale la messa a disposizione del proprio ufficio anche nelle ipotesi di di mancata commissione di specifici illeciti ma solo ripeto di messa a disposizione del proprio ufficio e fatti specie che attualmente rivestono una certa gravità e devono essere puniti ecco questo era il primo blocco di considerazioni il secondo blocco di considerazioni sono state già ricordate e sono gli aspetti internazionali e signori noi viviamo in un panorama che ci vede parte non solo dell'Unione Europea come è ben noto ma anche parte in quanto firmatari e paesi ratificanti di una serie di convenzioni internazionali e una per tutte la convenzione di Merida la famosa UNCAC la quale all'articolo 5 e soprattutto all'articolo 19 prevede la criminalizzazione del reato di abuso di ufficio del reato di abuso di funzioni del comportamento di abuso di funzioni attenzione e lo prevede con riferimento lo ricordava Francesco Prete con riferimento alle ipotesi in cui viene prodotto o arrecato un vantaggio non un danno viene prodotto un vantaggio a favore indebitamente illecitamente a favore di un terzo bene se noi eliminiamo questo o se noi abroghiamo addirittura il reato o anche lo trasformiamo in sanzione amministrativa perché le convenzioni internazionali parlano di criminalizzazione e la proposta della commissione europea rivolta al Parlamento e al Consiglio dell'Unione europea continua a parlare sia pure modificando le precedenti continua a parlare di criminalizzazione sia con riferimento all'abuso d'ufficio sia con riferimento al traffico di influenze e bene io credo che sia l'ipotesi abolizione sia l'ipotesi trasformazione in illecito amministrativo ci metterebbe al di fuori di quella che è la normativa internazionale pattizia da noi accettata da noi ratificata perché la convenzione di Merida sia pure con molta calma è stata ratificata anche dall'Italia perché è stata ratificata dopo che è entrata in vigore e cioè dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica dopo sei anni e mezzo praticamente dalla sua apertura alla firma comunque adesso è in vigore ed è in vigore in Italia noi ci metteremmo al di fuori e quindi rischio come è già stato ricordato di sanzioni o comunque apertura di procedure di infrazione che nella migliore dell'ipotesi non gioverebbero alla nostra credibilità all'estero terzo ed ultimo argomento si è tanto discusso e si continua tanto a discutere di paura della firma a parte il fatto che io non capisco come mai proprio sulla tempistica sta paura della firma si diffonda soltanto dopo cioè dopo che uno ha combattuto per essere eletto per essere nominato assessore per aver ottenuto delle cariche pubbliche che gli consentono di gestire determinati affari amministrativi se uno ha paura della firma magari potrebbe pensarci prima ed evitare di andare a ricoprire delle cariche che lo costringono a mettere delle firme se noi magistrati avessimo paura della firma dovremmo smettere di lavorare se un chirurgo avesse paura del bisturi dovrebbe smettere di entrare in sala operatoria dovrebbe andare a fare il medico di famiglia o qualcos'altro ecco e allora questa è la tempistica sulla paura della firma ma qui dobbiamo intenderci sui numeri perché io credo che siamo vittime di un equivoco da cui non riusciamo a uscire o i numeri sono troppo bassi come dicono alcuni il che non giustifica la permanenza di un reato oppure l'esistenza la sola la semplice esistenza del reato è talmente foriera di paura e di preoccupazione per la semplice sola apertura del procedimento penale che imporrebbe addirittura l'abrogazione del reato il che mi pare come dire un confronto di posizioni leggermente contraddittorio io potrei citarvi i numeri di Roma in effetti sono non lo faccio per non rubare ulteriore tempo e sto per concludere sono in effetti molto bassi sia con riferimento al numero dei procedimenti scritti sia con riferimento al numero delle condanne che vengono alla fine inflitte nei procedimenti penali che ne seguono però non credo che sia questa la ragione per la quale si decide di abrogare un reato intanto vorrei fare presente ecco perché facevo quei riferimenti al giudiziario all'inizio che la grande maggioranza dei procedimenti parlo della procura di Roma gruppo di lavoro pubblica amministrazione la maggior parte dei procedimenti iscritti a modello 21 cioè notizie di reato riguarda magistrati perché noi per la collocazione geografica abbiamo la competenza ex articolo 11 sui magistrati operanti quindi sia togati che onorari sui magistrati operanti sui distretti di Napoli e di Cagliari quindi tutta la Sardegna e buona parte della Campania e siccome evidentemente chiunque perde una causa o riceve un'ordinanza sfavorevole immediatamente ritiene che il magistrato nella migliore delle ipotesi sia un cretino che non ha capito niente nella peggiore sia un corrotto sia ignorante e quindi debba essere punito per abuso noi riceviamo decine e decine e decine di denunce che come ricordava Francesco Prete in quanto nominativi devono essere iscritte nel registro degli indagati ma la stragrande maggioranza che riceviamo riguardano magistrati tanto perché tanto perché si sappia bene abroghiamo il reato perché è inutile io ho trovato per caso ieri sfogliando il codice penale delle leggi il codice delle leggi penali speciali che sono ancora punite come punite con sanzioni penali contravvenzionali per carità ma sono punite con sanzioni penali per esempio la promozione e l'organizzazione di operazioni tra cui le catene di Sant'Antonio ora io non so quanti procedimenti penali siano aperti in Italia per organizzazione e gestione di catene di Sant'Antonio dovremmo chiedere forse a Napoli ma non è questo il punto principale forse il mantenimento del reato perché c'è stata pure una modifica recentemente ma non ha toccato l'irrogazione della sanzione penale così come ho scoperto contemporaneamente che è punito con sanzione penale il brazzo dottor lo vuoi non la sentiamo non la sentiamo chiedo scusa si era chiuso l'audio si era chiuso l'audio per errore no dicevo è altresì punito con norma penale anche il bracconaggio ittico nelle acque interne che sarebbe praticamente la pesca in qualche canale che unisce dei campi così in alcune zone del territorio nazionale bene ed è punito con sanzione penale anche qui non so quanti siano i procedimenti ma evidentemente non si ritiene che generino la paura della pesca né dall'altra parte si ritiene che generino la paura della catena di Sant'Antonio forse sono ancora diffuse e allora ecco per concludere che forse anch'io per l'età che pure è ben superiore a quella del collega Francesco Prete che continuo a rimpiangere il vecchio articolo 324 e cioè l'interesse privato in atti d'ufficio che nella semplice interpretazione che ne aveva dato la giurisprudenza lasciava a casi ma davvero residuali quelli anche allora previsti dall'articolo 323 e da un 323 molto più ampio rispetto a quello attuale che è estremamente definito però ripeto io credo che prima di fare degli interventi su norme di questo genere prima di fare degli interventi su norme di questo genere in questo momento in cui non passa giorno che non si senta parlare dei pericoli di infiltrazione di chiunque sui fondi del PNRR giusto per citare un esempio ecco prima di intervenire su queste materie ed è il motivo per cui davvero vi ringrazio per averci offerto questa opportunità a chi appunto quotidianamente vede queste carte io credo che dovremmo forse un attimo meglio approfondire le possibili conseguenze il possibile impatto che eventuali mutamenti potrebbero avere all'interno della nostra legislazione nazionale ma soprattutto anche in un momento particolarmente difficile nel panorama internazionale non solo europeo con cui ci siamo confrontati grazie grazie a lei dottor lo vuoi chiedo se vi sono deputati che intendano intervenire ha chiesto l'onorevole federico caffiero derao al quale do la parola prego grazie presidente grazie grazie ai procuratori della repubblica al procuratore aggiunto al sostituto procuratore generale che sono intervenuti per dare ciascuno di essi una panoramica particolarmente precisa delle valutazioni che appunto hanno espresso in relazione alle proposte di legge ricordiamo che proprio il 4 maggio la proposta di direttiva europea prevede la armonizzazione dei reati di corruzione di quelli legati alla corruzione tra cui appunto l'abuso d'ufficio il traffico di influenza l'ostruzione la giustizia l'arricchimento illecito in connessione ai reati di corruzione e la concussione e faccio questa premessa proprio perché la prima domanda è ma da queste proposte di legge ne ricavate quindi un indebolimento al contrasto al sistema della corruzione e poi prendendo spunto anche dalla considerazione che ha rappresentato il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia con riferimento ai reati spia delle infiltrazioni mafiose anche gli altri procuratori ritengono l'abuso d'ufficio comunque un reato spia un reato che consente di effettuare ulteriori approfondimenti che a volte si riversano proprio sui condizionamenti sull'infiltrazione mafiosa questa è la prima domanda e la seconda ma vi è stata una riduzione dei procedimenti penali per abuso d'ufficio con la riforma del 2020 il procuratore prete faceva riferimento alle numerose assoluzioni che ci sono state per questo reato fermo restando che è noto e abbiamo peraltro acquisito i dati ma le assoluzioni del 2021 2022 si riferiscono ai procedimenti che sono stati iscritti dopo la riforma del 2020 questa è l'ulteriore domanda vale a dire sono in grado di riferire qual è stata la ricaduta sul numero dei procedimenti della riforma del 2020 laddove è stata iscritta nuovamente in modo particolarmente precisa la fattispecie e ancora i procuratori della Repubblica hanno in corso dei protocolli con la procura della Corte dei Conti in relazione proprio a quelli che sono gli effetti delle iscrizioni per procedimenti penali o dei rinvii a giudizio per i reati contro la pubblica amministrazione e in particolare per il reato d'abuso d'ufficio un'ultima domanda nel caso si procedesse ad una disciplina legislativa delle iscrizioni al punto da individuare specificamente le ipotesi da iscrivere a modello 21 e quelli da iscrivere a modello 45 essi sarebbero vedrebbero favorevolmente una ipotesi di questo tipo o la vedrebbero invece come una sorta di restrizione a quella discrezionalità che il pubblico ministero deve invece solitamente avere nello svolgimento della propria attività poiché in relazione proprio a questo punto è stato chi ha ritenuto che la enorme elasticità proprio sulla individuazione dei fatti da iscrivere a modello 45 o modello 21 determina il più delle volte un'iscrizione a modello 21 proprio per poi non incorrere lo stesso pubblico ministero in una denuncia per articolo 323 laddove debba quasi tutelare il fatto e i soggetti attraverso un'iscrizione segreta qual è quella di quell'articolo 45 nel caso in cui il fatto di per sé si manifesta irrilevante ma che pur tuttavia potrebbe avere anche una ricaduta in relazione all'articolo 323 ecco io porrei queste domande presidente grazie grazie a lei collega del anno chiedo se vi sono altri colleghi che intendano intervenire non vedo nessuno iscritto quindi io darei la parola nell'ordine come abbiamo avviato queste audizioni alla dottoressa tiziana siciliano logicamente io chiamo per ordine ma se ritenete di intervenire ovviamente quindi prego dottoressa siciliano sì sì sarò telegrafica così come ho dimostrato prima allora certamente la l'abrogazione del 323 da noi viene vista dico noi perché mi sono consultata con il mio dipartimento ovviamente prima di questa audizione viene vista come un invibolimento nel senso che ci viene tolto uno strumento comunque residuale modesto ma comunque capace di fornire un contrasto in fatti specie che possono essere magari un po' costruite con le indagini ma che si si presentano come evidenti e meritevoli di considerazione sulle iscrizioni modello 45 modello 21 allora a parte che l'entrata in vigore della riforma cartabia secondo me ci mette di fronte anche a una situazione ben differente da prima dove c'era una se vogliamo discrezionalità un'elasticità un pochino maggiore adesso con la retrodattazione dell'iscrizione al momento in cui il soggetto avrebbe dovuto essere ritenuto comunque oggetto di indagine impone da subito una valutazione molto distruggente quindi l'iscrizione modello 21 che già mi sembra piuttosto ben disciplinata diventa ancora più come dire obbligatoria con tutti i guasti che sono stati indicati ma ricordiamoci una cosa a parte voglio dire con l'iscrizione modello 45 consente delle indagini ma in misura sicuramente attenuata rispetto alle indagini rispetto fascicolo iscritto iscritto noti noi abbiamo dimenticato una serie perché si archivia e ci sono iscrizioni che poi non portano a nulla ma in moltissimi casi l'iscrizione dell'abuso d'ufficio non è non vuol dire la cessazione del fascicolo significa che con quelle indagini che sono state indotte da una denuncia da un esposto e che hanno all'inizio con una prudenziale valutazione meritata un'iscrizione per 323 poi magari conseguono l'archivazione del 323 dell'abuso ma proseguono per ben altri e più seri reati cioè mi è capitato di partire con ipotesi 323 e scoprire poi dei reati di corruzione per esempio quindi quando noi diciamo sì ma il 323 non porta mai a niente sì non porta a niente il 323 se guardiamo solo lui ma può portare anche ad altro quindi anche come non certo reato spia ma come reato di prima valutazione su determinate condotte è uno strumento importante telegrafica come avevo promesso grazie dottoressa siciliano la parola al dottor Bruno Cherchi prego ah non è in collegamento è già la parola al dottor Maurizio De Lucia il microfono dottor De Lucia non la sentiamo eccomi la sentiamo molto rapidamente il tema della notizia di reato è il tema dei temi perché se noi iscriviamo immediatamente in questo momento legge cartabbi alla mano noi siamo sostanzialmente costretti a iscrivere immediatamente la notizia di reato la semplice iscrizione non è vero che non è portatrice di una serie di disagi per il soggetto indagato anche se la legge ci dice che non è così in realtà è così è un po' per quello che dicevo la comunicazione del fatto che un soggetto indagato apre a una sorta di aggressione di speculazione di quello che si vuole esterna al processo penale ma che dipende dal processo penale della definizione della notizia di reato si parla del 1930 cioè del codice Rocco e ancora diciamo così non c'è certezza ma l'orientamento attuale io lo vedo in particolare nei miei sostituti nel dubbio si scrive cioè mentre nel dubbio prima non si scriveva adesso nel dubbio si scrive perché intanto c'è un potere di retrodatazione attribuito al giudice in relazione all'iscrizione della notizia di reato poi c'è un problema di azione di responsabilità nei confronti del magistrato che omettendo in cappa lui nel 323 quindi austica l'abrogazione o nel 328 dunque l'orientamento sarà sempre più verso la iscrizione delle notizie di reato nel registro modello 21 che soddisfa una serie di esigenze che tutto sono tranne quelle utili per il processo perché ripeto il denunciante avrà la soddisfazione di poter dire che la sua denuncia segue un certo corso e che quindi anticipa lui il giudizio nel senso che la semplice iscrizione è già sentenza per alcuni come siamo abituati talvolta a leggere ecco quindi il tema è un tema secondo me centrale la possibilità di arrivare a una definizione come dire ultimativa la notizia di reato a mio avviso non c'è seguiremo le volte della giurisprudenza che via via ci dirà quali sono i parametri a cui attenerci ma è chiaro che in questo momento l'orientamento sarà ad ampliare l'iscrizione l'abrogazione è chiaro che comunque comporta un indebolimento della difesa di beni che hanno valore costituzionale sono i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione sono scritti in articolo 97 della Costituzione ce lo richiamo al 117 per quanto riguarda il tema delle fonti europee che come ricordava Francesco Lovoi ci impongono attenzione in qualche modo ci obbligano a stare molto attenti in materia di modifiche dei reati contro la pubblica amministrazione e ci impone una particolare attenzione anche per un problema di affidabilità del paese in relazione ai mercati cioè gli investitori vengono dove sanno che c'è meno corruzione se non è un grande segnale abrogare un 323 che comunque all'esito di quanto abbiamo detto non comporta gravissimi cioè non abbiamo questa marea di processi per 323 abbiamo una marea di procedimenti per 323 ma le ragioni le abbiamo ferite io ribadisco il tema che il 323 come ricordava la collega siciliana è certamente spia e indirizzo di altri reati contro la pubblica amministrazione ma sono segnali di reati di criminalità organizzata cioè l'atto abusivo del amministratore comunale di un comune della provincia di Agrigento di Trapano di Palermo non sempre fine a se stesso anzi è un atto finalizzato a soddisfare esigenze che vengono da quelle che si chiamano entità criminali ma che in realtà sono entità mafiose perché se tu devi ad esempio modificare la destinazione d'uso di un terreno una cosa e se modifi la destinazione d'uso tu una cosa se lo fai nell'interesse della famiglia mafiosa del luogo ecco il segnale che deriva dall'indagine sul 323 non soltanto può portare come si diceva ad altri reati contro la pubblica amministrazione ma porta a disvelare uno dei temi fondamentali del vivere delle organizzazioni mafiose cioè la capacità di infiltrarsi e di stare nello stesso territorio delle pubbliche amministrazioni entrando nelle pubbliche amministrazioni in questo senso questa norma a noi serve sia pure nelle forme più ristrette di cui attualmente la riforma ha imposto e anche tenendo conto di quello che è stato detto sul 324 che effettivamente è una norma che incorrebbe una nuova riflessione e consentirebbe probabilmente un recupero di legalità rispetto a questo settore io mi fermerei a queste considerazioni grazie grazie a lei dottor De Lucia la parola al dottor Marco Gambardella grazie Presidente sarò anche io brevissimo prima tematica l'iscrizione modello 21 modello 45 e anche la nozione stessa di notizia di reato ci tengo a sottolineare che di recente vi è stata una prima indicazione normativa e precisazione di che cos'è una notizia di reato mi riferisco alla modifica introdotta proprio alla riforma cosiddetta cartabia che hanno modificato il primo comma che ha modificato il primo comma dell'articolo 335 prevedendo comunque una primissima indicazione per notizia di reato cito testualmente contenente la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice quindi vi è stata comunque una prima indicazione recentissima cosa debba essere qualificata in termini di notizia di reato per quanto riguarda l'immediatezza di iscrizione immediatezza che è prevista espressamente all'articolo 335 che c'è un avverbo immediatamente cioè il pubblico ministero non ha un potere iscrizionale sul punto se viene una notizia di reato ovvero un fatto determinato non inverosimile è riconducibile in una strata notizia di reato il pubblico ministero deve procedere alla discrizione sempre la riforma cartabia prese espressamente l'articolo 335 disse che l'iscrizione di per sé non possa determinare degli effetti pregiudizievoli né sul piano civile né sul piano amministrativo è vera un'ipotesi astratta poi in concreto la mera iscrizione soprattutto per l'utilizzo strumentale che spesso si fa dell'iscrizione sia mediaticamente che anche spiace dirlo politicamente determina comunque degli effetti pregiudizievoli però le procure repubbliche si attengono al dato normativo non possono interessarsi di quelli che sono a mio avviso le problematiche comunicative o di strumentalizzazione eventuale politica sicuramente l'abrogazione dell'abuso d'ufficio determina il buon voto di tutela ho cercato di spiegarlo nel mio brevissimo intervento ed è verissimo che tutti i procedimenti quello che è la mia esperienza sia pur non lunghissima mi sono occupato prevalentemente i dati contro pubblica amministrazione nascono con l'iscrizione per 323 semplicissima l'ipotesi è grosso modo sempre la stessa esposto di un cittadino o di un amministratore pubblico denuncia una serie di violazioni gravi di legge si apre un fascicolo per verificare se oltre alle violazioni gravi di legge comunque da accertare ci sono stati ulteriori profili il loro intenzionale la volontà di procurare il giusto vantaggio e si apre un'indagine doverosa dopodiché si perviene quasi sempre ma direi davvero sempre a ulteriore ipotesi di reato quale è la falsa ideologica in atto pubblico o addirittura a fatti specie corrotti per più gradi ma è sempre quella l'incipit diciamo l'attività di indagine maggiormente gradi difficilissimo anche per come strutturata sono strutturate le fatti specie a concorso necessario che ci arrivi sempre o comunque un notizio di reato per corruzione è molto raro si parte quasi sempre da quella che l'ipotesi dell'abuso d'ufficio a Brogallo determinerebbe un voto di tutela a mio avviso davvero difficilmente colmabile grazie grazie a lei e dottor Francesco Prete prego sì io mi concentrerei sull'ultima parte della domanda dell'onorevole Caffiero De Rao quello relativo alle iscrizioni perché perché si sente dire in giro che il problema virgolette politico dell'abuso d'ufficio non è tanto quello del processo perché i processi normalmente dicono loro finiscono in assoluzione il problema è l'iscrizione perché già l'iscrizione di per sé abbiamo detto più volte determina pregiudizio che che ne dica la cartabbia perché quella norma introdotta nell'articolo 335 bis secondo cui la mera iscrizione non comporta pregiudizio come dire è una pacca sulla spalla di chi subisce l'iscrizione ma poi in realtà finisce lì e allora concentriamoci forse un po' di più sull'iscrizione dicendo questo la cartabbia e lo si vede anche da questa disposizione che ho appena citato vorrebbe restringere l'area della iscrivibilità delle notizie tant'è che oggi introduce tre quattro paletti fatto determinato non inverosimile ascrivibile ad una fattispecie di reato non ascrivibile riconducibile ad una fattispecie di reato e poi si iscrive la il nominativo della persona quando vi sono degli indizi a suo carico normalmente una denuncia di un cittadino contro un pubblico funzionario contiene questi elementi per cui si è detto da tutti l'iscrizione è doverosa quello che non trovo nel dibattito è un'attenzione sufficiente all'iscrizione a modello quarantacinque dico che il modello quarantacinque paradossalmente è una delle cose che usiamo quotidianamente delle cose che ci è più familiare e tuttavia non è un qualcosa previsto dal codice di procedura penale lo ritroviamo relegato nelle norme regolamentari del codice ma non è un istituto disciplinato dal codice di procedura penale o meglio non è un istituto è una previsione di iscrizione in un registro che non sia delle notizie di reato ho letto e condivido la necessità che venga giurisdizionalizzata l'iscrizione a modello quarantacinque perché come è stato ricordato oggi succede che se il cittadino denuncia un funzionario e poi il pubblico ministero lo iscrive al quarantacinque e lo autoarchivia succede che quel cittadino denuncia il pubblico ministero ora eh perché non giurisdizionalizzare il quarantacinque c'è stata in passato una giurisprudenza che ha ritenuto abnorme il provvedimento con il quale il GIP ricevuta dal pubblico ministero una richiesta di iscrizione al modello quarantacinque abbia ritenuto di non doversene occupare perché i quarantacinque devono essere virgolette gestinati in realtà si potrebbe pensare ma qui davvero che ci vuole un intervento legislativo che giurisdizionalizzi questa questa situazione si potrebbe pensare ad un valido del giudice anche sulle notizie che il pubblico ministero ritiene di iscrivere in questo famoso registro dei fatti non costituenti reato si dirà che così moltiplichiamo all'infinito il lavoro in realtà si potrebbe pensare ad una valido inaudita altera parte quindi neanche in camera di consiglio ma comunque un valido da parte del giudice che valuta anzitutto se sia corretta l'iscrizione del pubblico ministero in quel modello 45 in secondo luogo se davvero sia da archiviare quel caso oppure non abbia ragione in ipotesi denunciante che ha ben individuato una notizia quindi un fatto sul quale l'iscrizione debba essere fatta non a 45 ma a 21 quindi se potessi teoricamente ipoteticamente richiamare l'attenzione della commissione a concentrarsi non tanto sul merito del reato non tanto su quella che è la fattispecie del 323 ma a regolamentare le sue iscrizioni perché ripeto la gran parte delle polemiche e delle critiche attiene non al reato in sé ma alla sua iscrizione poniamo magari mano alle regole dell'iscrizione giurisdizionalizziamo il 45 e credo che saremmo più contenti grazie dottor Prete la parola al dottor Francesco Lovui prego grazie presidente cercherò di essere telegrafico parlando innanzitutto dell'iscrizione che come ricordato Maurizio di Lucia è da alcuni decenni il tema dei temi e l'onorevole Caffiero ha fatto per troppo tempo il pubblico ministero per non sapere che c'è appunto questa lontanissima lunghissima ultra decennale pluridecennale questione negli uffici di procura sulle caratteristiche delle iscrizioni alcuni le hanno addirittura inserite per linee generali nei loro documenti organizzativi poi sottoposti al baglio del consiglio superiore e così via il collega Prete faceva una proposta che in qualche misura in alcuni uffici giudiziari è stata praticata cioè la sottoposizione al giudice per le indagini preliminari della archiviazione del procedimento iscritto a modello 45 e tuttavia io temo che questo non arrivi a risolvere il problema che era stato già segnalato circa il fatto che la parte privata che si vede non iscritto a modello 21 quindi avete visto ci sono riuscito come si ricordava pure prima ma iscritto a modello 45 una sua denuncia e quindi la veda fatta oggetto di archiviazione sia essa auto archiviazione o sia essa tramite il GIP non tolga il rischio molto concreto della conseguente denuncia nei confronti del PM se è stato solo lui nei confronti del PM e del GIP se è entrato pure il GIP e non vorrei essere pessimista ma credo che una regolamentazione anche legislativa dell'iscrizione a modello 45 e o a modello 21 non toglierebbe questo problema così come stiamo verificando dall'esperienza quotidiana non è stato tolto dalla riforma cosiddetta cartabbia che continua a forci sostanzialmente lo stesso problema perché l'individuazione delle caratteristiche per l'iscrizione a modello 21 che adesso sono molto più strette molto più precise ma contemporaneamente rappresentano quasi un obbligo in più ad iscrivere per i motivi che sono stati detti e su cui stati detti e su cui non ritorno è evidente che creano ulteriori difficoltà in questo senso quindi aggiungere ai temi da trattare 323 e 346 bis anche il tema regolamentazione giuridica dell'iscrizione ho paura che porterebbe ad un'irregimentazione un po' eccessiva dell'attività del pubblico ministero che da sempre è stata considerata propria dell'attività inquirente dell'ufficio di procura cioè la selezione della notizia di reato e l'individuazione dell'iscrizione sull'indebolimento è indubbio che rappresenti un indebolimento l'eliminazione di alcuni reati ma non perché siano spia o perché non lo siano ma perché per esempio perché è meglio capirci con gli esempi Maurizio De Lucia citava un caso bene io che sono passato ad occuparmi dai comuni di Corleone Partinico Chiusa Sclafani Borgetto trovando situazioni che poi hanno portato oltre che a provvedimenti giudiziari anche allo scioglimento per mafia di questi comuni da parte degli organismi competenti del ministro dell'interno mi sono sorpreso devo dire non poco quando arrivato a Roma mi sono trovato che in provincia di Roma si è arrivati allo scioglimento di alcuni comuni molto più grossi perché le commissioni ispettive avevano trovato una serie di comportamenti che erano esattamente sovrapponibili a quelli che io avevo visto a Corleone a Chiusa Sclafani a Partinico e a Borgetto e cioè una serie di favoritismi che se oggi abolissimo l'abuso d'ufficio scomparirebbero come reato probabilmente resterebbero tutte le altre misure che possono continuare a essere prese per carità ma scomparirebbero come reato per i motivi che abbiamo già esposto e che quindi al di là che si tratti di reati spia di reati contro la pubblica amministrazione più grave e al di là che si tratti di reati spia oppure reati tipici in qualche caso io direi addirittura reati fine tipici delle associazioni criminali di tipo mafioso cioè il condizionamento delle pubbliche amministrazioni perché a quello tendono le organizzazioni di tipo mafioso non solo in Sicilia in tutta Italia e bene l'indebolimento credo che sia nei fatti grazie grazie ai nostri ospiti ringraziamo anche il procuratore distrittuale della Repubblica di Brescia per il contributo scritto che ha fatto per venire alla commissione quindi ringrazio per il contributo fornito ai lavori e saluto la signora dottoressa siciliano e i signori procuratori della Repubblica e dunque ci saranno altre occasioni per approfondire altri temi sulla giustizia che sono oggetto oltre all'abuso d'ufficio e al traffico di influenze illecite in attesa anche di un provvedimento che dovrebbe arrivare dal governo dal ministro della giustizia quindi grazie veramente per il vostro contributo buona giornata la seduta è tolta buona giornata grazie a voi grazie grazie a voi grazie a voi